Buonasera, mi trovo in una località, seguita ma sto bene, sono vivo, e volevo dirvi resistete, i lavoratori unico lavorate, i cosatori cosate, i tori ate, le tette, ho molto un buco, scusate, ho molto un buco, è un messaggio in codice, quindi se dovessi, se dovessi, in giapponesi, tornerà, tornerà convoy, resistete e scusate, e lo e, grazie